Ehi, siamo già sulla terra. Ricordi quando Tess venne a fare quel colloquio? Era così bella, accidenti. Non era la candidata migliore, ma non mi importava. Dovevo darle quel lavoro. Volevo che restasse in America. Stavamo per tornare in Irlanda. Avevi capito che dovevi rischiare. E allora l'hai chiamata. Ti eri scritto il messaggio da lasciare in segreteria, ma non ne hai avuto bisogno perché lei ha risposto. Lei ha pensato, ma perché mi chiama? Lo steggio è finito, perché mi chiama a casa? E io le ho chiesto se voleva venire con me a prendere un gelato, una cosa altrettanto all'antica. Lei ha detto, preferisco un drink. E io, ok. Dove? E io, ok. E io, ok. Cosa. Grazie a tutti